Il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D'Annuntis ha annunciato la conclusione delle procedure di garra per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'attuale imboccatura del porto di Giulianova. Nello specifico, gli interventi interesseranno il completamento del braccio sul molo nord con lo sviluppo residuo di 87 metri della barriera di scogli e l'intervento sul molo sud per la rifioritura e la messa in sicurezza delle scogliere di protezione danneggiate dalle mareggiate che si sono verificate negli ultimi anni. Proprio al termine del 2022 la regione e il sottosegretario D'Annuntis ci hanno confermato che sono stati aggiudicati i lavori per il prolungamento del molo nord a protezione dell'ingresso e per la rifioritura dei massi sul molo sud. Quindi due lavori importanti che sfiorano i 3 milioni e mezzo di euro che verranno impiegati probabilmente entro metà del 2023. Quindi i lavori sono stati assegnati a fine anno e nei primi sei mesi ci auguriamo completati quindi per un'importante novità per il nostro porto. Una volta completati questi lavori si potrà capire la reale condizione del fondale all'ingresso dell'area portuale. Noi abbiamo un porto che si è leggermente insabbiato però è in una situazione migliore rispetto ad altri porti rispetto al porto di San Benedetto. Sicuramente qualcosa ci sarà da fare con il completamento del braccio avremo un po' il quadro della situazione sul moto ondoso che si forma all'interno del bacino e quindi lì potrà poi essere decisa l'operazione da fare sia per il dragaggio che per mettere in sicurezza il molo lago d'addio. Ma il 2023 sarà un anno intenso per il porto giuliese visto che nei prossimi mesi verranno avviati anche altri lavori per il suo potenziamento. Noi abbiamo completato il 2022 con una bellissima sorpresa. Il sottosegretario Annuntis e l'assessore cuoresimale hanno stanziato nel bilancio regionale in sede di approvazione con gli ulteriori 25 mila euro per il completamento delle tettoie sul molo nord o meglio per i box sul molo nord e 65 mila euro messi a disposizione dall'assessore Pietro cuoresimale per come ci aveva promesso per la realizzazione di un pontile per i disabili per consentire l'accesso al bacino portuale delle persone con disabilità.